A Barcellona c'è un quartiere molto noto che si chiama Quartier di Sanz. Lì è nata una grande cantante, Nuria Feliu, eccola qua. Buonasera Nuria, senti io ti vorrei fare una domanda. Vorrei sapere perché tu nei tuoi 40 albums che hai inciso sempre preferisci, diciamo così, delle versioni di canzoni americane o di colonne sonore di film americane piuttosto che avere delle canzoni scritte proprio per te. Bé, è che in català queste canzoni non s'han fatto, o sigui, non c'è nessuno che si dedica a cantare questo tipo di canzoni. Allora, io credo che è una forma di normalizzare la lingua a través della canzone, cantando questi standard, queste canzoni di sempre, e soprattutto fare un català. Allora, perché mi sento còmode, perché m'agradano, perché... Ano swing... Certo, io capito più o meno il concetto. Praticamente lei dice giustamente che in catalano suonano in un altro modo, pur avendo un grande swing, e poi sono canzoni famosissime e bellissime, perché sono fra le più importanti del mondo. Senti, fra jets, bolero, ballate, quale genere preferisci? Io mi trobo comoda in tutto. De tutta manera, le canzoni aquestes, sobre che parlàvem, del... canzoni, donc, amb swing, les ballades, e se è necessario, parlami d'amore, ma io anche mi piace cantare. Ah, purtroppo... Allora, adesso vatti a preparare, perché deve cantare. Purtroppo questa sera... Puoi andare a prepararti. Grazie. Brava. Purtroppo questa sera non ci canta una canzone italiana, ma ci canta una canzone famosissima, che è Tal com eram. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.